Ciao a tutti, oggi siamo qui alla Lilt per mantenere una promessa che avevamo fatto prima di Natale. Siamo qui oggi alla Lilt, è per noi veramente un onore, un piacere portare una raccolta di fondi che abbiamo fatto con i nostri clienti, che siamo stati molto generosi, devo dire abbiamo raggiunto 5.200 euro di raccolta dei nostri clienti e come azienda abbiamo deciso di raddoppiare l'importo, quindi portiamo il nostro contenuto concreto a questa associazione che lavora molto bene sul territorio di oltre 10.000 euro. Quindi li ringrazio molto e sono molto felice di essere qui con loro. Siamo anche noi molto grati all'azienda Borsoi per questo contributo, ai clienti che sono stati così generosi e l'acquisizione di nuovi mezzi ci consente di erogare questo servizio così importante di trasporto gratuito dei pazienti oncologici ai luoghi di cura e l'avvicendamento di nuovi mezzi consente di svolgere questo servizio in sicurezza. La raccolta è andata al di là di quelle che erano le più grosse aspettative, quindi li ringraziamo di cuore per la sensibilità che la ditta e i suoi clienti hanno dimostrato nei confronti dei nuovi. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.